Senti Dio E se qualcuno si stesse chiedendo Dead, ma hai paura dei calabroni? Sì cazzo, ho paura dei calabroni Domandina, siete stati mai punti da un calabrone? Perché fa male cazzo Snake, sei ok? Snake? Major, Snake Are you alright? You're not hurt? No, that was a hell of a drought, but I'm fine Looks like there's no way back up though I see Well anyway, it's good to hear you're not injured Snipping and falling may not have been part of the plan But getting into that cave was Proceed further into the cave The cave seems to be structured like a maze But there's an exit somewhere Find a way out of the cave and head for the aqueduct Alright Ma potrebbe costruire me un po' di entrare a questa cava. Hai scelta? Non. È il soggetto? Havano un'esercizio per te? Non è così. Quindi cosa è? È scopo in qui. Scopo? Sì, non c'è luce in ogni quale. Mi dovrebbe portare un'esercizio con me. Quindi lo che dico, è che sarà un'esercizio un po' perché non hai un'esercizio? Sì. Snake, se non hai un'esercizio, dovrebbe essere cercato a un'esercizio. I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. And not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. We were trained to use every piece of equipment in as many ways as possible. If you don't have a flashlight, look for something else. You need to develop flexible, innovative thinking if you want to... Hey, are you listening to me? Yeah, of course I am. First, take a look at what you're carrying with you now. Don't you have anything that can provide you with some light? I see you've got yourself a wrap. Pattern clothing. Snake, are you all right? Yeah, just barely. What the hell were all those hornets? Most likely that was a pain one of the cobras. I figured as much. Are they tracking me? I don't know. The cobras only take orders from the boss. Not even Volgen knows what they're really up to, so I don't know anything about them either. No kidding. I'll try and dig up as much as I can about them. You just focus on moving ahead. Go to the end of the cave and you'll come out in an aqueduct overgrown with mangroves. This leads to the Ponyzovier swamp. And Snake, be careful. That cave... Is pitch dark inside. Good. I did remember to tell you then. If it's completely dark and you need a light, try using a torch. I heard there are some emergency torches stored somewhere in that cave. Torches? Got it. So where are they? Huh? Where are the torches? How should I know? Go find them yourself. Andiamo. For the culo della merda. Ma io dico, Idyokojima. Ma proprio uno coi calabroni dovevi mettere, eh? Certo. Potevi fare i ragni. Devi fare proprio i calabroni. For the culo Idyokojima. Idyokojima, merda! Idyokojima, merda! I see you have a calorie ma... I see you found some Russian glow caps. The Russian glow cap is a kind of luminescent fungus, a mushroom that glows in the dark. Why would a mushroom glow in the dark? It's bioluminescent, just like a firefly. It uses the so-called luciferin-luciferase reaction. To put it simply, luciferin reacts with luciferase in the presence of magnesium 2 plus ions, breaking it down into oxiluciferin and carbon dioxide. The carbonyl groups in the oxiluciferin are initially in... I mean, they give off light. Did you get all that? Not really. By the way, does that mushroom recharge your batteries when you eat it? What? I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries or something. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential difference between cells. Organic batteries are known for their highly efficient energy conversion. But they still rely on chemical reactions between proteins and enzymes to... So you're saying they'll get recharged? Believe what you want. Right. And then let's try it. Let's try it. Hmm. It's called Paramedic. All right. Paramedic. What's up? You were right. About what? C'è un caldo russo, e ha tracciato le batterie. Eh? C'è qualcosa? Eh, eh, questo è... questo è bello! Eh, Snake, potete scusare me un po' un po'? Sì. Hai sentito solo? Sì, non c'è nulla modo che mangiare un bianco di bioluminescente potrebbe causare le batterie di rinforzare. Cosa pensi che è significa? È un po' di me, magari è tutto in la mente. Tu pensi come un effetto placebo? Eh, adoro questo gioco Ecco Ecco A saperlo, Snake Ecco Ecco Eeeh, madonna Vabbè Allora Io ci riprovo Eva Devi dirmi il tuo parere Eeeh 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 Adoro questo gioco Adoro questo gioco Adoro questo gioco Ancora ancora, no scusate ragazzi Questa parte la intitolerò Cazzeggiando col codec Ah, no non è questo Eeeh Snake Eeeh 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 O magari perché Ocelot suona bene No? Eeeh 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 va bene basta mi arrendo ok andiamo va basta cazzeggiare abbiamo un modo per andarci via Tu guarda che culo Ora mangiare che roba Ora va decisamente molto meglio Pente di merda Via Non un cobra Che poi questa storia qua Della missione Snake Eater Mi fa venire in mente quella scena del principe d'Egitto Dove il cobra si mangia gli altri due cobra Mamma mia quella scena E' stata traumatizzante quando ero piccolo Alla rana Che cazzo Eccomi Occhio non potere Strellacci Ah Via 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 bestiacce Via 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 A proposito che cos'è che ho ottenuto Ah Fucile a pompa Odio gli spazi stretti Via 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 Ma è assaggiata Gli spiedini fatti col Con la polpa di granchio Buolissimi Oddio Destra o sinistra Ah no si uscì Si uscì Ah no di qua torno indietro Ah ho capito Ho fatto il giro dall'altro lato più lungo Ah bene è valsa la pena Stiacce Ma cosa ci sarà mai qui avanti Cioè abbiamo uno stanzone grande quanto il pentagono Un boss Ci sarà un boss Ci scommetto E chi se non the pain Cazzo No 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 Dio qualcuno lo bruci Bruciatelo I am the pain I will guide you To a world of anguish Beyond your imagination Let's get started Povero me Vabbè Iniziamo Boss pain Fatti sotto Merdaccia Ho appena cominciato Cazzo Cazzo snake Proprio adesso Devi avere Dovevi avere fame Porco Proprio adesso Se questo qua Non mangia Alla mira di bocelli Te Bene questo E vabbè Pretty tasty Pretty tasty Cazzo Cazzo Non è giusto Non è giusto Eh Se lo sapessi Proprio adesso Proprio adesso Mio Cazzo Cazzo Lo faccio sentire io adesso il pain! Adesso è proprio un pain in the ass, sai proprio! Oh mio dio! Cazzo sembri Deadpool! Ma che cazzo! Mh, mh, mh. Ma ti allevavi le... i calabroni nello stomaco? Ma veramente? Aia! Ma dove cazzo le ha tirate? No! Ma col cavolo! Oh, via! Britney! Amiga! Ha! Ho combattuto e ho vinto la mia paura! The pain! The pain! The pain! The pain! Ma che cazzo! Ma che è esploso! Ma che è? Ho fatto BOOM! Ma che è? Uh, c'è qualcosa lì! Vabbè, l'importante è che l'abbia battuto! Uh! Vabbè, almeno molto meglio che lui fosse stato, che lui è stato il primo cobra ad avermi affrontato. Meglio, guarda, molto meglio! Uh, uniforme chiazze! Oh, ma no! Vediamo cosa ne dico, vediamo un attimo! Oh, ma no! Vediamo cosa ne dico, vediamo un attimo! Così, sei proprio carinissimo! Dai che ce la fai! Oh, madonna! Già! Non sai quanto! Vabbiamo a tu, vediamo che tutti i venghhhh di un bambini per l'obiettino! Ok basta non voglio sentire Non voglio più sentire parlare di calabroni Ok? D'accordo? Basta col calabroni Ancora i brividi Ma che cavolo erano quelli? Cioè no aspetta Negli anni 60 avevano quelle robe volanti? Ma che cavolo? Cioè no aspetta Aia questi acce Cioè no aspetta Finalmente fuori Santi Dio Oh oh Ah già è vero che snake Già è vero aspetta Ti do da mangiare va Te manate questo snake Eh this works Cioè manate un pipistrello Snake E chi sei? Ozzy Osbourne? Buono serpente Ma non è cannibalismo snake? Buono serpente Buono eh? Ah Basta John Si Di Sì Ma non è Già Sì Ops! Bene, noi abbiamo eliminato i rompiballe. Eh, Snake, facciamo così. Ecco, così è più veloce. Però se anche tu collaborassi... Scusi, signora carpa, si levi dalle banche. Oh, così è più veloce. Scusi, signora carpa, si levi dalle banche. 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 Bravo, Snake. Uh, fucine di precisione. Snake, bravo. Signore, da svidania. Da, che c'è la fai, Snake. Da, che c'è la fai. Bravo. Bravo. Ciao. 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 e vediamo il quattro che sei fortunato. Guardate in attenzione. Una delle tre uomini ha una sola bulletina. I'm going to pull the trigger six times in a row, are you ready? Huh, looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You have to stay away from now on. The Cobras will take care of him. Ahahahah! Oh! I've cut my pistol! Has the CIA been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara. Kuwabara. The sorrow. Is that you? The sorrow. Is that you? The sorrow. The sorrow. The sorrow.